Robert Gligorov nasce in Macedonia nel 1960, ma poi si trasferisce a Milano e dove attualmente vive e lavora. Nella tua vita, prima di dedicarti prevalentemente all'arte visiva, ti sei occupato di varie cose, hai fatto l'atleta, l'attore, il chimico, l'illustratore, il fotografo, hai realizzato numerose copertine per cd di musicisti del calibro del Blue Vertigo, Gino Paoli, Zuccher, Sting, ma assumo che queste siano state tutte esperienze molto importanti e interessanti, ma cosa ti ha spinto a differenziare la tua attività su vari fronti invece di concentrarla solo su un aspetto creativo? Beh, a volte, diciamo, quando tu scegli un percorso, l'arrivo diventa inevitabile. Il 1996, lo ricordo bene, diciamo, come hanno, perché insieme a un altro mio amico, Carlo Benvenuto, che anche lui è invitato, fa l'artista, abbiamo messo su uno studio e ci siamo cominciati a muovere proprio un po' nell'ambiente, che era ovviamente molto diverso rispetto a quello che è oggi. Nel 1996, come dicevamo, hai preferito seguire la strada dell'arte visiva, prediligendo, a mio avviso, una ricerca che si muove in quella sottile linea di confine tra realtà e finzione. Conduci lo spettatore in un mondo o altro, spesso molto duro, anche forte, destabilizzante e a volte scioccante, che non risparmia certo anche la provocazione. Sei d'accordo con questa lettura? Diciamo che essere d'accordo o non d'accordo è anche questo un fatto rilevante, no? Che gli altri magari mi spiegano il mio lavoro, si prendano la briga di capirlo, può essere anche un modo di crescere, di capire gli aspetti che non ho visto in me. Non lo so, io ho sempre cercato di fare le cose che più mi eccitano e le cose che più mi attraggono, le cose a cui voglio dedicare il mio tempo, quindi penso che, a prescindere dal pubblico, dai critici e dal mercato, il primo esame uno lo passa con se stesso, di fare un qualche cosa che dia un senso, che dia un senso diciamo al tuo fare, no? Personalmente potrei dire una cosa che insomma, il mio arte è abbastanza autoreferenziale, faccio le cose prima di tutto per me e poi se c'è l'incidente, diciamo, della mostra, della vendita, tutto quello che viene dopo eventualmente accade. Robert, molte delle tue opere sei sia il vendiatore, diciamo l'artefice, ma anche il protagonista, diventi il protagonista, nel senso che il corpo, il corpo umano, ma non solo, è fondamentale, o fondamentale, insomma, orienta spesso nei tuoi lavori. Sì, cosa dire? Cioè, in realtà io ho delle fasi, penso, dei periodi, periodo blu, periodo rosa, diciamoci, periodo corpo, periodo sociale, periodo così. Quindi anche il mio corpo, probabilmente quello all'inizio, i vari travestimenti con le pelli di animale o altre cose che ho fatte, in realtà erano sempre legate molto a una polemica, a una contestazione, tuttora. Non è che sono pentito e oggi non ne sento il bisogno, soltanto cosa succede? Una volta detta una cosa, diventa patetico ripeterla. Se no diventa un po' il tuo stile e ripeti all'infinito quella tecnica lì, perché ti si riconosce, allora, per il mercato, magari con... Caccelato quel poco di buono, si è risparito, è come un campo di buono, mi sa cos'è in verdura. Quindi a volte trovo che ci sia un po' di disturbo nell'artista reale o nel matematico. Sì, è proprio un matematico. Cioè una persona che in qualche modo si ossessiona a indagare ciò che è una persona comune. Ecco, comune. Perché è una persona comune? Perché si occupa della sopravvivenza. Mentre la persona non comune, quindi una persona eccezionale, si occupa di ossessionarsi in un qualche cosa, nelle materie umanistiche, filosofiche, di ricerca, di storia, di matematica, l'arte. E tutte queste cose qui risultano una persona ossessiva. Cioè probabilmente è alla base di un piccolo disturbo, una personalità probabilmente leggermente border. Quale è stato il motivo che ti aveva portato dalla tua terra, dalla tua patria? Ma il motivo era completamente familiare. C'era ancora il blocco social comunista e quindi era anche difficile lasciare il paese. Devo dire che l'Europa rappresentava veramente l'America. Riuscire ad arrivare qua in qualsiasi modo e iniziare a inserirsi in questo tessuto risultava una forma di successo. Oggi probabilmente non è più così, anche lì è cambiato molto. Cioè l'Italia non è più un punto d'arrivo, un traguardo, ma forse un punto di partenza. Anche da qui bisogna partire per emigrare probabilmente a qualche altra parte. A proposito di questo, prima accennavi al sistema dell'arte sia a livello internazionale che a livello più locale italiano e quello che ci cogli in questo momento più da vicino. Se dovessi dare un consiglio a un giovane artista che si sta avvicinando al sistema dell'arte contemporanea, cosa diresti di fare? Come relazionarsi? In realtà la cosa migliore probabilmente da fare per un giovane è di fare un gruppo. Un gruppo con altri colleghi, altri artisti diciamo della sua generazione e con questo fare, fare mostre. Penso che sia un po' stato un po' il destino di tanti. Io quando ho iniziato, come dicevo con Carlo e con altri, abbiamo fatto gruppo con un'idea e in qualche modo abbiamo fatto. Diciamo che da solo andare a cercare fortuna è più difficile. Ma pensi che questo sistema dell'arte contemporanea in generale parmi davvero il talento, la capacità o ci vogliano anche tanti altri fattori per fare, per creare l'artista, per fare meglio che l'artista diventi noto insomma comunque? Sì, diciamo che un'artista deve capire dove deve collocarsi, dove può andare e dove è out. Penso che un'artista non può esimersi dal fatto di fare. Cosa fare lo sa lui, però non può esimersi da questa cosa qua. Cioè, desideriamo, la necessità di esprimersi. Certo. Sì, di fare. Ziggari e drogani, che intossicano, attenzia la rosa divina, fuggite con tutti i parenti. Cos'è che in realtà fa diventare veramente un'artista, una star? Perché alla fine che cos'è? È la costruzione sì della propria identità artistica, ma anche il sogno di essere una specie di star. Vieni invitato perché sei quel nome. Allora è bello campare quando il tuo nome dà garanzia e quindi non devi sempre dimostrare di poter volare. Non è che il lavoro poi va da sé. Uno pensa che a un certo punto il lavoro va per magia. No. Va perché un gruppo, diciamo, di investitori, così, scelgono il tuo lavoro. E poi arriva il punto fondamentale che si chiama un po' l'accordata. L'accordata vuol dire un sistema che in qualche modo impongono a livello proprio economico il tuo lavoro. Si specula sul tuo lavoro, si investe continuamente alle aste, fin tanto che si sentono girare delle cifre. E qui l'artista deve essere un po' abile, bisogna anche imparare questa cosa, di saperti di no. Non so, posso dirti che già per dire oggi accetto una mostra di Celant, già è out. Accettare una mostra di Bonito Liva, nomi, no? Sto dicendo, è già out. Capito? Sono già un po' acqua passata, capito? Di piccioli che propongono la novità, perché un giovane deve essere abbinato a Celant. Allora ti devi abbinare anche lì a un curatore della tua generazione che comunque abbia fatto un percorso di un certo tipo, che è anche molto competitivo, anche lì. L'altro giorno leggevo, non so, Jan Fabre ha donato due sue opere agli Uffizi. Come si fa a bocare una cosa del genere? Cioè gli Uffizi non hanno bisogno di Jan Fabre, Jan Fabre che vuole essere abbinato agli Uffizi. E diventa puramente un'operazione in qualche modo un po' strategica, un po' così, un po' diciamo d'immagine, ma seduci l'ingenuo. La gente crede ciò che legge. Cioè uno rimane, è provinciale uno che dice che il teschio con i diamanti da Menest è un'opera bella. Vuol dire che la mente può essere plagiata, può essere plagiata e condizionata dalla provincialità delle persone. C'è praticamente l'utilizzatore finale, che è quello che è i soldi. Quello che diciamo può decidere di comprare le tue opere. In realtà sono persone che si occupano d'altro. Si occupano di petrolio, si occupano di diamanti, si occupano di costruzioni, di autostrade, non lo so. Raggiunto un certo livello, una Ferrari, gli spot di Damanera, diventa uno status averlo. Non importa se è bello, se è arte, non è arte. Qui ormai siamo arrivati al sistema in cui è stato manipolato il sistema e praticamente è stato plagiato il gusto anche diciamo di un consumatore provinciale che è un miliardario. Quindi dice voglio il teschio perché è bellissimo il Damanera, con i diamanti tappezzato perché significa tu sei un provinciale. Perché di tutte le opere che sono nel pianeta non ti piace quella di Guston, non ti piace quella di Morandi, non ti piace quella di Matisse, ma ti piacciono i teschi di Damanera. Ateo come la colomba, neutrale come la zona franca. Amo la bellezza come il trucco sull'occhio di una ragazza bianca. Islam Stop! Ti faccio questa domanda perché qualche anno fa hai, e non hai mai forse abbandonato anche la musica, hai deciso un CD, hai cantato, un CD anche forte perché di denuncia sociale dove... Faccio un lavoro sociale o politico? Ecco, dico no, ma questa è una posizione dove denunciavi degli aspetti appunto di questo. Pensi che sia questa la direzione ancora dove andare o non lo sai o pensi in futuro di dedicarti ancora di più alla musica, al cinema, al ritornamento... Sì, diciamo che bisogna avere il buon senso di non produrre tante immondizie, di non produrre tanti figli. Cioè bisognerebbe anche capire che il mondo è saturo, che è un sistema che è saturo, è saturo di gente, siamo troppi, è saturo di proposte. Quindi cosa fare per il futuro? Guarda, io questi dal 96 oggi avrò fatto un top 300 mostre, mi sono sfogato, tantissima gente ha scritto sul mio lavoro, ho già dato. Ho conosciuto Fellini, Monicelli, Latuada, Comencini, tanti attori, tanti froci, ma uno che deve fare se c'è la faccia per un target americano? Vanità, senza gravità, la mia anima in cambio di celebrità. Dico, se no c'è un'altra strada, che è quella di cambiare identità. Cambiare completamente identità è mettere un alter ego, quindi mettere un altro nome. Per ricominciare da capo, se hai capito un po' come il sistema gira, come funziona il mondo. Magari se sei un uomo ti metti il nome di una donna. Fai un'operazione artistica e poi ricominciare da capo. Cioè io credo che in realtà oggi fare un'opera d'arte è rilevante. Cioè l'opera non ha senso oggi. Se si fa un'opera d'arte è perché si ha bisogno di un mercato e di un oggetto tridimensionale da consumare per il turismo. Ma in realtà l'arte è arrivata a un punto in cui l'oggetto, l'arte l'ha negato. Alla fine ha vinto l'arte. Ha vinto perché ha spiegato che è tutto arte. Tua nonna, la sedia, l'albero, tu che mi intervisti, io che parlo, sia... È tutto arte. E quindi a questo punto si crea il cortocircuito. Nulla ha senso. Quindi che cos'è l'arte in realtà? L'arte non può essere altro che un confronto di ciò che si è fatto e si è detto. Quindi probabilmente si tornerà alla filosofia, alla parola. Grazie a Robert Gligorff del tempo che ci ha dedicato e a Robert che l'arte sia sempre con te. Uno dei pochi che non mi ha detto come toccione. Non ne potevo più. Non ne potevo più. Non ne potevo più.